Una passeggiata con le figlie, il sorriso sul volto, la musica di sottofondo. L'obiettivo è rassicurare il proprio paese e lanciare un preciso messaggio al mondo. Sto combattendo il tumore e sto reagendo bene, sembra dire Ugo Chavez in questo nuovo video trasmesso dalla televisione pubblica. Il leader venezuelano si trova all'Havana dall'8 giugno dove ha detto di aver subito un primo intervento per un ascesso pelvico e un altro per la rimozione di un tumore maligno. Fidel Castro ha definito un ripugnante la campagna condotta dai media dell'oligarchia venezuelana al servizio dell'impero statunitense che starebbe approfittando dei problemi di salute del leader venezuelano. Domenica migliaia di persone a Caracas hanno manifestato il loro sostegno a Chavez. La malattia ha sollevato la questione dell'impossibilità di una sua candidatura nel 2012 con un conseguente rivoluzionamento degli equilibri politici in America Latina.